Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale, guardate al solito con chi sono? Ciao sono Tommy Gunn, questo minonudo e questo è un piccolo speciale per Natale, facciamo questo video che non sarà un video, sarà la presentazione del nostro server perché finalmente abbiamo un nostro server dove siamo admin e tutto quanto quindi è un video presentazione per invitarvi il regalo di Natale che abbiamo fatto di venire a giocare su questo server, il server nostro, vi ripeto dove io, Tommy Gunn, Snow ed altri ragazzi siamo admin e nulla, vi presentiamo questo server, avete visto e non siamo qui né io né Tommy per parlare male di nessuno anche perché ragazzi voglio dire una parolaccia ma non me ne frega un cazzo, siamo qui per presentare questo nostro server perché nell'altro non ci siamo trovati bene, non vi stiamo a dire perché, per ma, per come, per su, per giù non ci siamo trovati bene, semplicemente non ci è stato dato un bel servizio, mettiamola così, poi tutto il bene del mondo a queste persone tanto non mi interessa, non me ne frega nulla e finalmente abbiamo il nostro server, questo server praticamente è ostato da un clan che, The Rebel Clan, no? Mi pare si chiami, no? Sì, sì. Ragazzi tranquillissimi della nostra età, praticamente dai 20 ai 30 anni, gente tranquillissima che clan multigaming e tutto, ci hanno dato da subito senza dirci ma se, ma ma, ma come, ma sotto, ma sopra, ci hanno dato l'admin quindi abbiamo poteri sul server anche Tommy quindi se ci fossero problemi ce lo fate sapere, se viene qualcuno a rompere le scatole possiamo kickarlo, bannarlo e tutto quanto, quindi il server è tanto loro quanto nostro e praticamente troverete tutte quante, ora poi a fine video metteremo la descrizione con l'indirizzo IP, descrizione ragazzi, nella descrizione del video troverete il link per connettervi, la guida e tutto quanto, tanto comunque è semplice. Come prima avviate Rust, premete su Play, lista server, premete F1 sulla tastiera, vi appare la console dei comandi, copiate, incollate l'indirizzo e poi dopo lo dovete fare una volta e non lo fate più, tanto poi vi finisce nell'history e lo vedete scritto come Play Rust Italia. Quello che ci tengo a dirvi è che praticamente per farla ancora più da signore, visto che io mi reputo un signore, una persona onesta, avete visto che il video precedente del server del clan VIP che ci ospitava prima, l'ho lasciato, volendolo potevo tranquillamente cancellare, perché comunque gli fa pubblicità, lo lascio, quindi ragazzi, video precedente, video questo, avete la possibilità di scegliere, nessuno vi vuole male, siamo tutti qui a giocare a divertirsi, quindi ognuno nella sua vita fa cosa li pare, per me quello che conta è trovarci su YouTube, scherzare, ridere, commentare, volete giocare sul server loro, avete l'indirizzo del clan VIP messo in descrizione nel video precedente, volete giocare con me e Tommy sul nostro server ci trovate di qua, fate quello che preferite, ma bacio, vi voglio bene, buon Natale a tutti, non me ne frega niente, quindi nessun rancore. Vuoi aggiungere qualcosa? No, è praticamente detto tutto quanto, magari aggiungo che se qualcuno di voi vede, magari qualcuno che sta citando in qualche modo, tipo non so, vede delle cose completamente strane o qualcuno dice parolacce, bestemmia o vi infastidisce nella chat, fate un bellissimo screen con il tastino stamp e ce lo mandate in qualche modo, in modo che noi riusciamo a vedere il problema. Ce lo mandate su Steam, ce lo mandate per messaggio privato al canale mio o al canale suo. La cosa importante ragazzi, questo gioco, l'avete visto comunque chi non l'avesse ancora ha avuto il piacere di provarlo, di comprarlo, questo gioco è un Hunger Games globale, cioè proprio la trama stessa del gioco è un Hunger Games, armarsi, farsi un villaggio e darsi battaglia, quindi non vi arrabbiate mai se qualcuno arriva e vi distrugge la città, vi entra in casa e vi ruba la roba, è il senso del gioco, semplicemente, quindi evitiamo di incazzarci, evitiamo di offendere, evitiamo di scazzarci, di magari, quello mi ha ammazzato e porca puttana e vaffanculo, no, lasciamo stare ragazzi. Cioè, il senso del gioco è proprio questo, come detto nel video precedente, se togliamo il PvP da questo gioco ci abbiamo tolto, non il 50%, il 60%, perché non ha una componente PvE vera e propria, questo gioco qui, non è che bisogna andare a caccia di zombie come su Infestation o anche Daisy, io non voglio fare PvP, voglio andare a giro, fare l'esploratore e ammazzare gli zombie, non lo possiamo fare, questo gioco qui non ci dà possibilità, quindi il senso del gioco è il PvP. Comunque, chi è qui accanto a me? E là, Jack, stiamo registrando il video, eh? Ah, ciao. Vi guardate ragazzi, c'è anche Jack, ve lo presento anche se penso non abbia bisogno di presentazioni, è l'admin di Social Game, TFG. Ciao a tutti. Eccolo qua, anche lui è qui che si sta armando col suo arco, guardate bello, sembra un boschì. Ma chi c'è laggiù? Sta arrivando un'altra persona. Sembra un boschì, ma non sembra. Micchia, di fretta, di fretta, niente. Luca. Comunque, stiamo... E nulla, così tengo premuto a V, lasciatevi al gioco così ci sente anche Jack. Comunque ragazzi, questo è il server, se volete venire a giocare a noi non ci fa altro che piacere, ve l'ho detto, scegliete voi in quale server giocare e nessuno poi vi può dire niente, perché, cioè, sono cazzate, non si sta parlando del niente, quindi ognuno faccia la sua scelta. Comunque, se volete venire a giocare qua giù con noi, ci troverete e a questo punto cominciate i tommi con gli auguri di Natale. Buona vigilia a tutti quanti ragazzi, stasera fatevi una buona cena, un bel cenone, si sa già che tanto alla vigilia si scartano i regali, quindi spero che trovate qualcosa di bello sotto l'albero, magari dei soldini sulla cartina per poterlo. per pendevi rust. Esatto, esatto, bravo. No, dai, e comunque sia ragazzi, buona vigilia e buon Natale per domani a tutti quanti, bella. Vi faccio fare gli auguri di Natale anche da un personaggio speciale, Jack, di Social Game. Auguro a tutti ragazzi. E diteli Jack, non devi costruire un wood shelter così vicino alla strada perché sennò te lo buttano giù un tempo di secondi. Amen, amen, tranquillo, dopo li picchio poi. Bravo, vai, si fa subito guerra. E ragazzi, niente, auguri di buon Natale a tutti, felice feste, state tranquilli. Al solito fatevela prendere bene in questo giorno speciale dell'anno, che è bene una volta l'anno, ringraziando Dio per quanto mangeremo tutti quanti. E quello più bravo di... Sono il primo, boh, quello più bravo di T. Comunque, se trovate qualcuno che vi offende, che vi dà fastidio, ve l'ho detto, fate uno screenshot, fate lo scelosapere e prenderemo provvedimenti. E vedete voi dove giocare, se venite qua giù a noi non ci fa altro che piacere. Link in descrizione, link per connettersi al server in descrizione. Ragazzi, buon Natale e per quanto mi riguarda ci vediamo il 26. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Rock and roll. Viva il metal anche per Natale. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Francesco. All'interno del Multigaming Online mi chiamo Snow. Volevo presentarvi una piccola guida per riuscire a joinare un server di Rust, avendo solo ed esclusivamente l'indirizzo IP, e senza dover andare a sfogliare ogni volta la lista per andare a trovare il server che cerchiamo. Dal momento che il gioco è ancora in alfa, non è possibile aggiungere server a preferenza, o fare cose simili, quindi avendo l'indirizzo IP, riusci a immaginare lo stesso tramite un velocissimo passaggio via console. E quindi, io adesso come riferimento userò il nostro server, di cui abbiamo anche il gruppo su Steam, e lo potete trovare andando su Steam, nella comunità, cerca giocatori e gruppi, basta scrivere Play Rust Italia, e troviamo subito il nostro gruppo. Andiamo a vedere, eccolo qua. Ho fatto anche una piccola guida sul forum del gruppo, dove dice che appunto, per entrare nel nostro server, seguite questi passi, aprire il gioco, premere F1 per aprire la console, copiare questa stringa, incollarla e premere invio. Questa stringa è il codice che ci serve, net.connect, spazio, e indirizzo IP da inserire. Quindi facciamo CTRL-C per copiare, avviamo Rust, mi sono perso Steam, eccolo qua. Eccoci dentro la Rust. Come dice la guida, premiamo F1, aprire la console, CTRL-V per incollare quanto abbiamo copiato prima, premiamo invio, entriamo automaticamente nel server da noi scelto. Una volta entrati, ripremiamo F1 per chiudere la console, e possiamo cominciare a giocare. Questa è cosa mia. Basta, l'avete già visto troppo. Ok ragazzi, buon divertimento. Spero di vedervi presto sul nostro server, o quantomeno nel gruppo, poter scambiare quattro chiacchiere su questo gioco, che a parer mio è un gran bel titolo, mi sto divertendo parecchio in questi giorni. Va bene. Grazie ragazzi, devo attenzione, a presto. Grazie a tutti.